Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni, quindi ci spingeremo fino a circa il 20 di luglio. Prima intensa e duratura ondata di caldo africano dall'inizio dell'estate. Tre fasi, il 6 luglio ultimi fuochi di artificio dei temporali sul nord Italia. L'anticiclone nordafricano nel frattempo si allunga al sud portando una temperatura di 20 gradi alla quota di 1500 metri. Per avere la temperatura al suolo bisogna raggiungere, come ne valori massimi, circa 15 gradi. Quindi come dire che al suolo ci saranno valori tra 33 e 35 gradi. Tra il 7 e il 10 luglio, seconda fase, l'anticiclone africano abbraccia tutta l'Italia con una temperatura di 20 gradi alla quota di 1500 metri e di 25 gradi sempre la quota di 1500 metri però sulle regioni meridionali. Quindi dovete aggiungere 15 gradi e vedrete che sconfineremo quasi ovunque tra i 35 e 40 gradi. In questa fase ovviamente tra appunto il 7 e il 10 di luglio il tempo sarà bello soleggiato ovunque e domineranno i venti di Brizza lungo le coste. Tra l'11 e il 16 di luglio l'anticiclone africano si rafforza ovunque portando una temperatura di 25 gradi al centro-sud alla quota di 1500 metri e una 20 sul nord Italia sempre la quota 1500 metri per avere grossomodo le temperature massime al suolo aggiungete circa 15 gradi. Temperature massime per esempio previste per giovedì domani 25 e 28 al centro-nord 27 e 30 al centro regioni tireniche 28 e 31 Puglia Calabria Isole con punti di 35 sulla Puglia. Domenica 9 quindi alziamo a domenica vediamo di quanto sono aumentate le temperature al nord 30 e 34 gradi su Liguria, Marica, Abruzzo, Molise le più moderate 28 e 30 gradi al sud delle regioni tireniche 32 e 35 gradi sulle isole 33 e 38 gradi. E infine l'apice del caldo tra l'11 e il 15 di luglio quando l'ondata di caldo africano porterà temperature massime al nord tra 33 e 35 gradi con punti di 37 nel Ferrarese e Basso Lombardia valori intorno a 30 gradi solo sulla Liguria meno calda sulle regioni tireniche valori massimi tra 33 e 37 gradi Puglia Calabria e Isole 35 e 40 gradi punti di 43 gradi interno della Sardegna. Questa fase calda molto calda tra l'11 e il 15 probabilmente proseguirà in perterri da fino a circa il 20 di luglio.